Non sta certo a me presentare Tony Servillo, lo conosciamo, lo amiamo, abbiamo visto tutti i suoi spettacoli, tutti i suoi film, l'abbiamo inseguito in tournée chilometriche in giro per il mondo e però Tony per questo incontro ha preparato un testo, un testo inedito si dice in questi casi, quindi un prezioso documento e da quel testo, da questa lettura vorrei cominciare per poi aprire la discussione, aprire le domande, le risposte, sono sicuro ci saranno anche tante domande da parte vostra. Tony, grazie. Sì, io ho accettato naturalmente con molto piacere l'invito di Biennale Teatro di Alex Rigola a partecipare a questa edizione. Confesso che sono praticamente inesistenti le mie esperienze di teatro che non hanno come obiettivo finale poi una messa in scena vera e propria. Diciamo le esperienze che variamente si chiamano laboratoriali, seminari, perché pur essendo poi profondamente affascinato dalla figura di Jouvet che maestro e pedagogo è stato, io non mi ritengo tale e non ho questa vocazione. Nel senso che se riesco a comprendere qualcosa di un testo e a trasmetterlo ai compagni che scelgo nell'avventura, devo avere davanti a me la difficoltà e l'obiettivo della messa in scena, cioè devo avere l'obiettivo dell'incontro con il pubblico. Quindi avevo fatto esclusivamente un'altra esperienza in una manifestazione che si tiene intitolata a Maria Volontè che si chiama La Valigia dell'attore alla Maddalena che era un'isola piccolissima a nord della Sardegna dove Volontè si ritirava spesso e dove è sepolto. E avevo fatto questa piccola esperienza per una settimana con degli allievi di varie scuole di formazione teatrale italiana, dall'allievi del piccolo teatro, dalla scuola di Torino di Genova, dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e l'avevo impostata su due argomenti che credo di conoscere abbastanza bene se non altro per esperienza. L'avevo impostato su Selimène e Giacinta, cioè due giovani ragazze all'interno di due drammaturgie tra il 6 e il 700 di due paesi diversi, Francia e Italia, e quindi vedere come due autori, come Moliere e Goldoni, affrontavano il tema della gioventù e di dove la gioventù va come orizzonte date le condizioni di contesto sociale, politico, di idee, di vita che esprime da una parte il misantropo di Moliere e dall'altra la trilogia della veleggiatura di Carlo Goldoni. Di conseguenza poi con gli attori si lavorava su Alcest oppure su Guglielmo. Questo invito è caduto perfettamente in una circostanza in cui io non mi sono detto sì ma vado alla Biennale Teatro a fare un lavoro così aperto, ma su cosa? Qualche volta mi sono trovato nell'imbarazzo di dire ma appunto non avendo questa vocazione a trasmettere qualche cosa se non sollecitato dall'esigenza, dall'angoscia, dall'entusiasmo, insomma si può chiamare in mille modi, di andare poi in scena. Anche perché ho ripetuto fino alla noia che io non sono di quelli, ma questo lo dico senza nessun intento polemico naturalmente, anche perché oggi tutto viene buttato in polemica, invece insomma lo dico senza nessuna polemica, però non sono di quelli che credono alla mistica delle prove, cioè alle prove come il momento più bello del teatro. Per me il momento più bello del teatro è quando incontro il pubblico e il teatro senza il pubblico non c'è, non capisco cos'è, consideriamolo un limite personale, ma insomma veramente faccio fatica a capirlo e invece capisco di più un testo quando questo testo è sottoposto all'avventura, allo sforzo di tante 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 recite con il pubblico. E anche questa è la ragione per cui non ho fatto tanti spettacoli con la mia compagnia Teatro Uniti, ho fatto tante recite invece, tante. Mi piace immaginare, avendone naturalmente la possibilità, la facoltà e anche le opportunità, le condizioni di preparare uno spettacolo e poi immaginare dal primo momento tutti gli sforzi concentrati perché questo spettacolo abbia una lunga vita. La trilogia della veleggiatura ha fatto oltre 400 recite come sabato, domenica e lunedì, come le voci di dentro, la fortuna ha voluto che la collaborazione produttiva con il piccolo teatro di Milano ha consentito anche di fare lunghissime tournee all'estero, abbiamo toccato la Russia, all'America, nel senso degli Stati Uniti, la Turchia, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Inghilterra. E naturalmente nel corso di queste lunghe tournee, tutta l'Italia in lungo e largo, il mio laboratorio è la verifica costante e quotidiana con gli attori con cui ho il problema dell'andare in scena della tenuta di questa andata in scena, che significa la tenuta anche dell'efficacia del testo nei confronti del pubblico. Quindi questo ancora una volta per dire che quando anche per il passato, in maniera, sottolineo ancora una volta, l'usinghiera per me è arrivata la proposta di Alex Rigola, ci eravamo incontrati anche proprio una volta qui al Goldoni, io a volte mi sono sentito nell'imbarazzo, mi sono detto ma cosa faccio, non ho uno spettacolo da preparare, sono in tournee d'estate poi qualche volta quando capita, faccio un film, proprio perché l'inverno è dedicato esclusivamente al teatro. E invece qui è arrivata una proposta nel momento in cui stiamo preparando con Teatri Uniti e il Piccolo Teatro di Milano Elvira Jouvet Caron, cioè Elvira Jouvet 40, un testo di Brigitte Jacques, un'autrice francese, vivente, che vive a Parigi, che questa autrice ha tratto da sette lezioni che Jouvet tenne nel 1940, allorché fu invitato a tenere dei corsi al Conservatoire di Parigi, su il monologo di Elvira nel quarto atto del Don Giovanni di Molière. Naturalmente questo è un argomento che è molto interessante sia dal punto di vista della messa in scena, perché di un testo teatrale si tratta, pur se basato su delle lezioni di teatro, ma è molto interessante anche dal punto di vista pedagogico in una circostanza come questa, perché i 15 giovanissimi attori, drammaturghi, registi che stanno seguendo in questi giorni il nostro lavoro trovano un materiale che è ricco di argomenti e di spunti che riguardano il loro oggi e il loro futuro di professionisti. Il Vir Jouvet, leggo, mi viene più facile, perché io in questi giorni, poi dopo apriamo un confronto, però desidero informarvi proprio esattamente su che cos'è e su cosa stiamo facendo. Quello che stiamo facendo è molto semplice in questa settimana, stiamo facendo un lavoro a tavolino, ci stiamo andando in profondità ogni giorno, visto che c'è una settimana a disposizione di lavoro e le lezioni sono sette, ogni giorno è interamente dedicato a sviscerare una lezione. I ragazzi che hanno l'opportunità di seguire questo lavoro a tavolino sono proprio stretti intorno a noi e quindi ho uno spazio di conversazione che è molto prossimo tra i tre attori che lavorano con me in questa avventura e gli uditori, in cosiddetti, non è una bella parola, ma insomma i ragazzi che seguono questo lavoro. Il Vir Jouvet è un'opera singolare segnata interamente dalla dualità, una dualità che appare subito fin dal titolo, un uomo e una donna, un uomo di teatro storicamente esistito e un personaggio femminile di finzione. Dualità delle figure principali, Jouvet e Claudia, l'attrice con cui Jouvet lavora questo pezzo che Jouvet considera uno dei brani più difficili del repertorio classico francese. Ma questa dualità è anche quella del regista e dell'attrice, del maestro e dell'allieva colti in un tet a tet, un faccia a faccia violento e appassionato, intimo e furioso. Una dualità di solitudini, di tragitti, di visioni, di esperienze, di ricerche parallele e incrociate dei due protagonisti che si ricongiungono, si affrontano, si scontrano nel lavoro del teatro. Dualità nella relazione dell'attrice e quindi dell'interprete con il suo personaggio. questa Elvira con la quale lei combatte ferocemente, ma anche dualità del pedagogo regista con il testo, nella sua lotta anch'essa feroce con le parole e il mistero della scrittura dell'autore e quindi naturalmente con Molière. Altra dualità contenuta in Elvira Jouvet-Caran, sottile ma molto percepibile, è tra le porte chiuse del teatro, questo luogo segreto e silenzioso, questa classe del conservatoire oscura e deserta e ciò che accade fuori, che sta accadendo in quel momento in Francia durante il 1940. Cioè si annuncia lentamente l'invasione delle truppe naziste di Parigi e di tutta la Francia. Dualità ancora che porterà Claudia, la vera giovane attrice ebrea, era un'attrice che si chiamava Paola Deli, lei all'interdizione delle scene dopo la dichiarazione delle leggi razziali. E Jouvet in tournée in America del Sud, un esilio volontario che Jouvet volle per sfuggire alla barbarie che in quegli anni avrebbe occupato tutta la scena europea. dopo queste sette lezioni questo uomo e questa giovane allieva non si incontreranno mai più e avranno un destino completamente diverso. Dopo questi cinque mesi in cui il tempo della storia per loro non è esistito più ma è esistito invece un tempo in cui si sono completamente inabissati che è il tempo dettato dal personaggio, il tempo di Elvira. Quindi è un testo che esprime una dualità tra la verità e la menzogna, tra il sentimento e la tecnica, tra il narcisismo e la spossessione di sé, tra l'abbandono e l'orgoglio, tra il dubbio e la grazia, tra il virtuosismo e il dolore. Non c'è una parola che Jouvet dice in questo testo che non sia una parola dettata da una lucidità inesorabile che viene da una maniera di pensare il teatro che è il frutto di una cultura che la esprime. Alla fine di questo, verso la fine delle lezioni, Jouvet dice, ne parlavamo proprio oggi, dice la difficoltà in questa scena di Elvira è che in questa scena non ci sono trucchi, non ci sono artifici, è l'attrice stessa che deve renderla, e attenzione usa tre parole, stupefacente, improvvisa e meravigliosa. Quindi capite bene che se questo testo esprime queste dualità tra la verità e la menzogna, il sentimento e la tecnica, il narcisismo e la spossessione di sé, l'abbandono e l'orgoglio, il dubbio e la grazia, il virtuosismo e il dolore, il virgouet, è molto più di una pièce sul teatro, se è tutto questo. Ciò che accade durante queste sette lezioni tra Jouvet e Claudia e tra l'attore che interpreta Jouvet e l'attrice che interpreterà Claudia, va bene al di là di problemi legati all'interpretazione della seconda scena di Elvira nello Giovanni di Molière. Ciò che si svolge, parlo del testo, lo spettacolo dovremo vedere, ciò che si svolge sotto i nostri occhi a cui siamo chiamati a partecipare è un lento avanzare a due, cioè dell'allieva e del maestro, nello sconosciuto, cioè in ciò che non conosciamo, in ciò che non conosciamo negli altri, nell'altro e quindi in ciò che non conosciamo in noi stessi. un lento avanzare che avrà il fascino di un combattimento, di un corpo a corpo accanito, fatto di dubbi, di attacchi, di dolcezza, di crudeltà, di complicità, di incomprensioni, di scoraggiamenti e di conquiste che si susseguono gli uni alle altre. Un corpo a corpo tra i due attori, sicuramente, ma un corpo a corpo anche con il personaggio inafferrabile e commovente di Elvira. Un corpo a corpo con la lingua e la scrittura e con questo famoso sentimento, che è la parola intorno alla quale Giove fa girare tantissimo le lezioni, che sembra essere la chiave di volta di ogni interpretazione e forse andando oltre, è la chiave di volta di ogni atto creativo. Quello che emoziona, che cattura immediatamente in questo testo, ciò che appassiona e che gli dà un senso che va ben al di là di una semplice lezione di teatro, che un maestro impartisce ad un'allieva, sta nel fatto che tutti e due i protagonisti, ciascuno a suo modo, sono coinvolti in parti uguali in un processo di ricerca, in un'inchiesta dolorosa e accanita su un enigma che ha per nome Elvira e contemporaneamente in un lavoro su se stessi, una vera e propria immersione in se stessi e nella propria interiorità. non c'è da una parte colui che sa e dall'altra colei che apprende. Non si tratta di una trasmissione a senso unico, ma piuttosto del confronto e della complicità di due volontà, due desideri, due modi di interrogarsi e di far lavorare l'immaginazione distinti, ma ben piazzati davanti allo stesso mistero, che è Elvira. Qual è questo mistero? Attraverso il personaggio di Elvira, attraverso ciò che lei dice, ciò che lei fa, ciò che rappresenta, c'è l'eterno gioco della verità e della menzogna, dell'amore e della perdita di sé, della paura e del desiderio. C'è questa avventura improbabile che chiamiamo teatro e che consiste nel cercare in se stessi ciò che ci è estraneo e pertanto familiare a ciascuno di noi. Questa avventura che consiste sempre, per come la vedo io, nel perdersi per ritrovarsi. Se c'è una cosa che si impara dopo 35 anni di teatro e migliaia di repliche, è che ti perdi e ti ritrovi, ti perdi e ti ritrovi, e in questo gioco di perdite e di ritrovamenti ci capisci qualcosa. Prima di tante altre cose, il teatro è l'arte della contraddizione e dell'abbandono di sé. Ed è soprattutto questo che il Vir Juvé ci fa toccare con mano attraverso queste sette lezioni. Il Vir Juvé ci mostra il teatro al lavoro, non il lavoro del teatro. Non è una cosa da poco. Ci mostra il teatro al lavoro. E ci mostra contemporaneamente i temi della trasmissione, della regia, dell'interpretazione del personaggio e ci trasporta contemporaneamente in un luogo più strano, raro, segreto, intimo e tuttavia universale. Quel luogo che ci fa domandare tutti i giorni, sono nel sentimento? Ecco, grazie. Questo è il diritto. Grazie. E beh sì, bellissime suggestioni. Riflettevo venendo qua appunto che c'è una costellazione attorno a questo spettacolo in divenire. Una costellazione che si manifesta appunto intanto in Louis Juvé che Tony ha spesso dichiarato essere un po' un punto di riferimento, un maestro, assieme a De Filippo, anche per la celebre definizione di distinzione tra actore e commedienne, che è un po' una delle chiavi, delle prime chiavi d'accesso al teatro de Juvé. E su questo naturalmente ti vorrò chiedere qualche cosa. Poi appunto c'è Don Giovanni, c'è Molière e quindi per noi italiani c'è Cesare Garboli che ha portato Molière, ha fatto capire Molière in Italia, le cui traduzioni sono state usate da Tony nei suoi allestimenti celebri del passato. C'è un teatro minacciato dall'occupazione nazista, c'è un teatro minacciato dalla guerra, allora e in qualche modo possiamo dire come oggi. Quindi anche questo è un altro tema di grande e scottante attualità. C'è il rapporto maestro-allieva che ci ha raccontato già molto bene, il teatro al lavoro, no? Questa pedagogia del fare, tu non ti consideri un maestro ma lo sei, nel fare teatro con compagnie di straordinaria qualità. Ci sono le prove, ci sono le prove come la difficoltà della verità, no? Del raggiungere la verità dell'attore. Qual è la verità dell'attore? Un tema che torna spesso anche nelle tue dichiarazioni. E infine c'è un riferimento, abbiamo citato giustamente il Piccolo Teatro di Milano, ricordiamo l'edizione, ne parlavamo prima, del 1986, di Giorgio Strailer e Giulia Lazzarini. In qualche modo a 30 anni di distanza si ritorna a questo spettacolo, chiaramente diverso, chiaramente cambiato, ma è anche un po' un superamento della regia, di quel teatro di regia in un teatro d'attore, che è il tuo percorso, che è il tuo percorso che ha rinnovato straordinariamente la scena italiana a partire dalle prime esperienze naturalmente degli anni 70, però a partire dagli anni, da fine degli anni 90 a tutto il 2000, ha cambiato il modo di rapportarsi al pubblico, ha trovato un nuovo modo di raccontare i classici al pubblico. Quindi sono veramente una costellazione di rimandi feroci, vivaci, che danno senso profondo a questo percorso. E allora la prima cosa che ti vorrei chiedere è proprio questa, cioè il confronto con desiderio e volontà, la dualità, tutti questi temi che hai accennato, l'abbandono di sé. Ma ecco, che cos'è l'attore oggi? Che cos'è ancora valida quella distinzione di juve tra acteur e comedian? Ma la distinzione che fa juve tra... juve intanto è interessante per chi non è sufficientemente informato aggiungere che parliamo di uno degli ultimi intellettuali del teatro del Novecento, il cui portato di riflessione sul mestiere del teatro è equiparabile a Stanislavski, a Coppò, a Artaud, come passione divorante di una quotidiana riflessione sul teatro, con in più l'opportunità che solo juve ci regala di un attore che, appena finita la recita, torna in camerino, riflette e scrive su quello che gli è accaduto, prima, durante e dopo la recita, in atto e in relazione ai personaggi. E' rarissimo trovare testimonianze di questa natura. Quindi un grande intellettuale del teatro, forse l'ultimo esponente, essendo morto nel 51, di un teatro che crede ancora che un testo teatrale sia un linguaggio, organizzato in un linguaggio che è un organismo. Dopo verrà una furia decostruttiva dei testi che dal testo ci porterà lentamente verso il vuoto, il nulla. Juve appartiene a una generazione invece di uomini che lavoravano verso non la decostruzione e poi, forse in alcuni casi degenerativi, la distruzione, ma la costruzione. Questo, per esempio, è una delle ragioni per cui io trovo, per certi aspetti, vicini, per quanto lontani, Edoardo e Juve. Edoardo si sottolinea poco o non sufficientemente. Noi gli siamo gradi non solo perché è stato un attore immenso, ma Edoardo ha dedicato una vita a costruire un teatro che prima di lui non c'era, come se fossero mura, luoghi da visitare, paesaggi, con cui si sono confrontati generazioni intere, cioè ha costruito. Juve appartiene a una generazione di uomini che guardavano i testi pensando che i personaggi fossero da costruire a partire dalla sollecitazione che ti veniva dall'interrogare in profondità il testo. dice in queste lezioni con grande evidenza a Claudia, la giovane allieva, nel momento in cui perdi una necessità interiore di dire questo testo, chiederai aiuto ai gesti, chiederai aiuto alle parole del testo, chiederai aiuto peggio ancora alla riserva di tue emozioni personali e in quel caso il testo è perduto. Questa è una dichiarazione di appartenenza a un modo di leggere il teatro e di viverlo che può essere amato o non amato, ma sicuramente è lucido, è chiaro. Juve aveva il senso della responsabilità che quando metteva il piede qua sopra su un palcoscenico non voleva seminare il panico, ma voleva costruire qualcosa che fosse a disposizione del pubblico perché il pubblico si potesse orientare nella vita uscendo dal teatro. In questo c'è questa distinzione che lui fa, per esempio, tra essendo egli un attore e, attenzione, questo grande intellettuale del teatro era l'attore più popolare di Francia. Non stiamo parlando di un guru che diceva queste cose a una setta di iniziati, che faceva queste lezioni di teatro d'estate per una settimana sotto una quercia sull'amiata. Ogni riferimento a fatti o persone. No, non mi sto riferendo, mi è venuto l'amiata, potrebbe venire. No, no, oddio, per carità, non vorrei fare una gaffa. Cioè, stiamo parlando dell'attore che era un monumento del teatro nazionale, un attore popolarissimo al cinema, diretto dai più grandi registi francesi, Clouseau, Renoir, protagonista di serie cinematografiche legate a un personaggio, in particolare il dottor Knok, che erano estremamente popolari. Parliamo di un uomo che è stato uno degli ultimi grandi intellettuali del teatro europeo, ma che era contemporaneamente un uomo che conosceva perfettamente anche la condizione dell'attore come qualcuno che ha una responsabilità sociale. Non un sacerdote che ha una mistica e che gode di una mistica praticata da altri 25 persone. con tutto il rispetto per le 25 persone e il guru 26. Però è proprio una cosa che a me non interessa. In questo lavoro di attore esisteva per lui, per orientarsi, una distinzione che lui faceva tra actor e comedian, che non significa che l'actor è una cosa buona e il comedian è una cosa negativa, e non significa neanche che un attore nella sua vita si debba identificare totalmente con l'acteur. Distinzione, attenzione, che lui faceva perché in Francia esistono due modi di chiamare l'attore attore, actor e comedian. Ma non che può accadere nella vita, è sempre una saggia riflessione che serve ad orientare nel meraviglioso mondo disordinato e caotico del teatro. In lui ricorre molto spesso una definizione del teatro come il luogo dove si elogia il disordine, il caos, perché in questo lo fa somigliare alla vita che è caotica e disordinata, non è che chi si sente più actor è meno o più intelligente o più bravo di chi si sente comedian. L'actor è qualcuno, e questo poi si aggancia a quello che dicevo prima, anche al modo di mettersi in relazione con i testi come regista, l'acteur è qualcuno che si sostituisce al personaggio, spodesta il personaggio, lo espropria e mette se stesso e la propria personalità al posto del personaggio. Il comedian è qualcuno che stabilisce con il personaggio un'affettuosa amicizia, queste sono parole sue, un rapporto leale, un lento insinuarsi, come il paguro ci lavora dentro al personaggio, per stabilire poi quella chimica di relazione che è costante anche nella tenuta della esecuzione, altra parola fondamentale per Giovet, Giovet chiede agli attori di eseguire il pezzo, non di farlo, chiede un'esecuzione, che ha dei principi, ha delle regole. Quando Elvira, è anche un'eccezionale occasione questo testo per ritrovare un pochettino di precisione nel glossario, nelle parole che si usano in un'arte che è così prostituita. Quella del recitare, tutto vanno a fare gli attori, è pieno di ragazzi che vogliono recitare, senza pensare minimamente che recitare è un'avventura terribile, è meravigliosa, intendiamoci, ma è anche un'avventura che può essere terribile nella scoperta di se stessi, nella relazione che si ha con se stessi, nella sincerità che si ha con se stessi e con gli altri. Giovet stabilisce per il Comedienne una verifica costante di una relazione che crea un movimento per cui un'interpretazione è sempre qualcosa che sta a metà di un passaggio che va dalla personalità dell'attore al personaggio e dal personaggio alla personalità dell'attore. Perché nell'approccio al personaggio, Gioveri tiene sempre che il Comedienne lo guarda dal basso con ammirazione. Questa è un'altra cosa molto importante che questo testo ci comunica e che credo comunica soprattutto alle giovani generazioni, soprattutto in questi tempi in cui l'insegnamento, non tocchiamo l'argomento della scuola, è il modo in cui sono considerati i professori che fanno un mestiere veramente molto serio. e che invece sono, qui ci avventuriamo in un argomento altro che ammiata, ma viviamo un'epoca in cui c'è un modo di arrivare e di accedere all'informazione e quindi in qualche modo anche alla conoscenza che è tutt'altro che dall'alto. Attraverso la comunicazione virtuale, noi abbiamo molto spesso un'informazione, un'insegnamento che ci viene da un orizzonte che è orizzontale, è molto spesso piatto. Io credo che noi abbiamo bisogno di un insegnamento che ci venga dall'alto, come nel caso di Giover, perché noi si possa stabilire la distanza che ci separa dal talento. Nel momento in cui stabiliamo la distanza che ci separa dal talento, forse riusciamo a trovare il motore dell'ambizione che ci consente di raggiungerlo in qualche modo, quel talento. E questo è il rapporto che il comedienne ha con il personaggio. È la ragione per cui Giover pensava che colui che usciva dalla scena e diceva «Stasera io ero amleto» è un coglione. Oppure «Dio era con me quando stasera ho recitato». Non esiste… C'è amleto e poi ci sono nella storia del teatro uomini che hanno dedicato tutta la propria vita a donarci un'interpretazione la più possibile vera, evidente, sincera, emotivamente efficace che ci mettesse in relazione alla complessità di Amaleto, alla complessità di Tartuffo. Viceversa sono occasioni, io credo, perdute. E quindi questa distinzione acteur-comedienne che è una delle distinzioni che sono finite in proverbio quando si parla di Giover riguarda il mestiere dell'attore ma riguarda un atteggiamento più generale con il teatro, con la drammaturgia, con i personaggi con non il lavoro del teatro ma il teatro al lavoro. Il teatro al lavoro è come la poesia al lavoro, è come la musica al lavoro, è l'arte che ci fa, che ci trasforma il modo di stare al mondo, è l'arte che lavora per noi per farci vivere diversamente. Il teatro al lavoro. Infatti quello che è interessante in questo testo non è vedere perché quando io ne parlo qualche volta e devo dire per certi aspetti anche nella messa in scena di Streller questo accadeva perché Streller che l'aveva fatto con la straordinaria Giulia Lazzadini che però aveva una cinquantina d'anni e Streller lo chiarisce nelle sue note di regia utilizzò questo testo perché anche lui amava profondamente Jouvet lo utilizzò per l'apertura dell'attuale teatro studio cioè di una sala che aveva le caratteristiche di un teatro di natura, di vocazione laboratoriale per cui utilizzò questo testo nella sua natura di lavoro del teatro mentre invece credo che Brigitte Jacques e quindi lo riempì Streller di interpolazioni personali di tagli, di altre lettere o citazioni di Jouvet che con il testo non hanno nulla a che vedere mentre invece ritornare credo al testo originale che nel nostro caso è stato tradotto da Giuseppe Montesano che è non solo uno straordinario scrittore contemporaneo ma è anche un illustre francesista per esempio, soltanto per citare ha curato per i meridiani l'opera integrale di Baudelaire quindi sa perfettamente da dove viene stupefacente stupefacente quando Jouvet intende dire stupefacente e non un'altra parola e prima accennavo a Moliere chiede un'esecuzione che ci commuova non chiede all'attrice, a Claudia di diventare Elvira e quando Claudia perde il personaggio perché quello che è molto bello come dicevo prima in questo testo è che passano nelle prime quattro lezioni pochi giorni pochi giorni da una lezione all'altra poi provvisamente c'è un'interruzione di qualche mese da febbraio si passa a maggio e poi da maggio a settembre questo per tante ragioni da un calendario dettato dalle circostanze volute dal conservatoire ma c'è la guerra che è detta probabilmente forzatamente delle sospensioni fatto sta che questi due pur non ignorando quello che sta accadendo fuori del teatro oppongono alla barbarie che invade il paese la bellezza di questa immersione totale in questo abisso e in questo enigma che è Elvira un po' quello che in maniera diversa ma altrettanto straordinario ha raccontato Truffone l'ultimo metrono a proposito del teatro però Streller direi per sintetizzare che raccontava il lavoro del teatro Brigitte Jacques racconta il teatro al lavoro c'è una bellissima distinzione abbiamo tempo per qualche domanda io ne ho fatto una specie di sondaggio online a proposito della comunicazione orizzontale cosa chiedereste a Tony Servillo sono avvenute tipo 250 domande te le manderò rispondiamo con calma alcune anche molto divertenti alcune provocatorie naturalmente e tanti che vogliono sapere di Antonio Neiviller tanti che vogliono sapere di Leo De Berardinis che sono stati appunto Leo è stato un mio maestro assoluto non perdo occasione per dirlo anche recentemente nella prima intervista in cui ho avuto l'opportunità di poter parlare di questo spettacolo la mia esperienza con Leo equivale per certi aspetti a esattamente lo stesso stupore che Claudia ha e le stesse attese che ha Claudia nella relazione con con Jouvet sono quelle di me se mi rivedo molto giovane quando andai da Leo e dissi io voglio imparare da te e ho fatto due spettacoli con lui che sono stati molto formativi per me Antonio Neiviller fa parte di quella di quei maestri che siamo stati volontariamente o involontariamente gli uni per gli altri nel momento in cui abbiamo fondato con Mario Bertone e lui Teatri Uniti l'esperienza di Teatri Uniti tra l'altro Leo De Berardinis mi fa pensare al rapporto con la musica che è un rapporto a te carissimo anche legato a Venezia in particolare alla Fenice per i tuoi allestimenti per le tue regie Leo diceva l'attore è come il jazzista si in possessa della musica è la musica e quando ho letto il libro intervista con Gianfranco Capitta che hai fatto qualche anno fa ormai tanti sono i riferimenti alla musica io devo dire che sono meno interessato pur adorando il jazz a questa possibilità di stabilire una relazione tra il jazzista e l'attore di cui non nego l'efficacia naturalmente sul piano dell'improvvisazione perché l'improvvisazione è un elemento importante del nostro lavoro io sono più ossessionato invece dal rigore della partitura e infatti questo è anche quello che impone a farne le spese e la salute mentale e fisica infatti Edoardo diceva il primo requisito di un attore è la salute e non si sbagliava sembra una battuta è una grande verità io quando vengo alle prove vengo sempre con uno schema molto chiaro che poi può essere totalmente sbagliato totalmente confutabile dal confronto con gli attori io lavoro sempre con la stessa assistente che si chiama Costanza Boccardi con cui ho un rapporto fedele e felice dopodiché i miei assistenti non ho pletore di assistenti non so che farmi i miei assistenti sono gli attori io parlo con gli attori se lo spettacolo funziona non può fare anche per gli attori se gli attori sono intelligenti se lo spettacolo non funziona il primo addirmi non funziona è l'attore che sta con me in scena non è uno giù che vigila su quello che fanno gli attori che questo pressuperebbe che gli attori non si rendono conto di quello che fanno devo avere uno schema uno schema perché se invece arrivo a teatro e dico cominciamo con qualcosa e qualcosa arriverà almeno a me spesso accade che non arriva niente e me ne torno a casa più frustrato di quando ho avuto un'idea che poi il palcoscenico mi ha restituito come sbagliata quindi ho bisogno della partitura e anche la ragione per cui ma questo si porta dietro tutta una serie di considerazioni che non sono legittime perché ce ne sono tante altre contrarie che sono altrettanto legittime ma perché però servono a fare chiarezza io per questo stessa atteggiamento mentale non riesco a fare gli spettacoli all'aperto perché a luna e stella o sola mi distraggono io ho bisogno come mommina in questa sera si recita soggetto di chiarirmi che questo è muro questo è muro questo è muro ho bisogno della convenzione del teatro il mondo sta fuori e qua c'è un altro mondo se intorno a me c'è la bellezza del mondo io non so dove non riesco ma è è legato per me alla ferocia con cui uno cerca di essere chiaro nella comunicazione questo mi preme molto mi è capitato proprio per questo ho ragionato io insomma ricordo un bellissimo allestimento molti anni fa dei persiani con la regia di Martone al teatro di Siracusa insomma prima di io facevo il primo coreuto avevo una lista infinita di generali persiani con nomi molto difficili da mandare a memoria uno dietro l'altro e passavano una quantità di gazze che venivano a posarsi sulla scenografia e luce bellissimo l'abbiamo fatto sempre ma non è il mio cioè insomma io penso che il palcoscenico sia un luogo dove il personaggio va torturato e quindi la tortura si fa bene in uno spazio chiuso allora io voglio chiudere con una citazione di Tony Servillo che penso che possa essere da lezione per tutti e ciascuno di voi e di noi credo che un interprete nel suo lavoro di scavo interroghi in maniera profonda continua e ossessiva i valori che emergono dalla tessitura drammaturgica allora in quel profondo continuo e ossessivo sta una delle chiavi del successo di Tony Servillo grazie grazie a Tony grazie a voi grazie grazie della pazienza grazie a voi grazie grazie davvero grazie meraviglioso ascoltare grazie 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 a tutti